Torquing Walls è un progetto che nasce nel 2019 a Lanciano, è iniziato così per gioco. L'anno scorso abbiamo portato avanti un progetto insieme alla provincia di Chieti. Questo progetto è stato presentato in collaborazione con il comune di Vasto e l'Ater. Questo murales che sto realizzando è un murales che racconta un po' la storia del quartiere. Ecco, io mi sono documentato, mi sono sentito con persone del luogo. Il disegno rappresenta tre bambini intenti a giocare, molto allegri, con tutte e tre con lo sguardo rivolto verso la palla, perché la palla è uno dei giochi più vicini a queste persone che magari non potevano all'epoca comprarsi una Playstation, anche perché non esisteva, e l'unico modo di svagare era giocare a pallone. Infatti i personaggi che sono rappresentati sulla parete non portano le scarpe e stanno giocando a pallone scalzi. Il titolo dell'opera è Let's Play Together, giochiamo tutti insieme, appunto perché questi bambini giocano a pallone e vogliono in qualche maniera rappresentare la spensieratezza dell'adolescenza e dell'accontentarsi con poco, perché basta veramente un pallone per stare insieme e divertirsi. Sono felice di far parte di questo progetto Talking Walls, che Nicola porta avanti da diverso tempo, ci mette veramente tanta passione e oltre questo è sempre un'opportunità per creare qualcosa di bello, puntare un faro su delle realtà che magari necessitano anche di più interventi, ma questo è solo un granello che facciamo per dare qualcosa di più alla comunità. Partirà a breve un nuovo muro, realizzeremo un nuovo muro, sarò io il protagonista dell'opera, nel senso che sarò io l'artista che realizzerà l'opera e spero che riuscirò a sorprendere tutti e dare un contributo alla mia città. Al prossimo episodio Allora Grazie a tutti.